E l'occhiali? Quali occhiali? Mamma mi ha detto che mi dovete dare l'occhiali Ma il dottore ha detto che non ne ha bisogno Ah, meno male Non ce n'ho bisogno Avanti un altro Buongiorno, ceccone i calli I turbi? Coliche di fegato Si tolga la giacca, si sdrai lì sopra e si tiri sulla maglietta Che c'è? Fegato Chi sei? Ceccone i calli Che prendi? E parema Va meglio? Ah, ecco Ripetere la cura due volte al giorno E non bere vino Ciao panzone Eccola Ma cuori Chi è? Il professor Tucci Ah, il professore violino, il violinista Come va professore? La lirica riprende? Ah, la lirica si, sono io che non mi riprendo Asma bronchiata Sentire? Tossisci? Alt Tossisci? Alt Respira forte Alt Non ispirare Eccola Le menzioni le fai? Si, un giorno si, un giorno no Quest'estate mare sole, terapia solare E per quel tinticarello in gola? Fai dalla barba La barba? Cosa c'entra la barba? Chi è? Corsetti, remo, artrose, colonna vertebrale Si Dove hai fatto le altre? Gli ero con filofanti, mi ci ha mandato lei E certo, quello che avevi non si vedeva niente Vedi quarta e quinta vertebra Vedi com'è chiara? Diecimila lire, è chiara, si Si, piegano un po' Oh Traumatologico, gli fanno il busto Ma col busto non posso più lavorare Che lavoro fai? Sono piegata le poste, ufficio di me E beh, timbre in piedi Che c'è? Gola Gola, vedere Fai a Accome rossa, fumi? Si, è meglio Già litico dalla mattina alla sera con mio marito Che fuma tanto Ecco, è questo, vuoi guarire? Si Non litica più con tuo marito Che devo fare? Compri un pacchetto di sigarette E li sciacqui Fali fa lui Ciao Chi è? Orecchio Ah C'è un po' di cerume dentro l'orecchio Non c'è sera Bene, vediamo un po' Ammazzo gli amici rum Questo è fango Tu sei sordo Ma dottor, ma orecchio mica è questo È quest'arte Dici, vediamo Dai, è peggio Lavaggio Lavaggio Col sapone Chi è? Ricetta Che vuoi? 20 grammi di salicilato Che ci devi fare? Devo mettere i pomodori in bottiglia Boni, fai la ricetta Mandami due bottiglie di pomodori Chi è?